La parola che ricorre più frequentemente è integrazione e la seconda parola che ricorre più frequentemente è innovazione. Integrazione implica un coordinamento sempre più stretto fra tutti i servizi sanitari all'interno del cosiddetto sistema di cura, il che ruota intorno al Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze Patologiche che aggrega le unità operative di salute mentale adulti, neuropsichiatria infantile per le dipendenze patologiche. Ancora oggi registriamo troppi problemi di continuità nei processi terapeutici, per esempio al compimento del diciottesimo anno o per esempio per i pazienti che hanno una condizione di malattia sia di salute mentale che nelle dipendenze patologiche. Tutti questi sono problemi che devono essere affrontati con una migliore collaborazione e integrazione fra unità operative. Ma al di là di questo si richiede anche una maggiore integrazione con l'università, pubblico privato, sempre per quanto riguarda l'area sanitaria. La sfida vera, forte e più difficile da realizzare ma perciò stesso quella più importante sta invece nel realizzare l'integrazione socio-sanitaria, cioè nel fare in modo che autonomie locali e aziende sanitarie riescano a collaborare in modo che il cittadino non percepisca nessuna frattura dell'intervento fra i servizi sanitari e sociali perché oggi molto spesso un bisogno sanitario comporta anche uno o più bisogni sociali associati. Direi che già a fine 2008 abbiamo alcuni segnali confortanti, le regole riscritte di collaborazione fra gli enti locali e le aziende USL cominciano a funzionare, i distretti cominciano a operare secondo le nuove direttive, cominciamo ad avere gli atti di indirizzo delle conferenze sanitarie e sociali territoriali, abbiamo le valutazioni contenute nei profili di comunità, quindi i primi mesi di questa nuova era dell'integrazione socio-sanitaria cominciano a produrre i primi frutti. Adesso il problema si sposta a livello dell'integrazione tra i professionisti, qui si tratta di cambiare delle abitudini e come sappiamo è sempre la cosa più difficile, un'organizzazione la si può cambiare forzando anche alcune tappe, le abitudini delle persone di ogni giorno, non parlo solo dei professionisti ma in generale le abitudini delle persone richiedono tempi un po' più lunghi per poter cambiare. Quindi le difficoltà che noi ci aspettiamo sono in parte relative alla realizzazione dell'organizzazione che abbiamo prefigurato, ma molto ci aspettiamo che ci sia da lavorare nell'ambito delle culture professionali, dei servizi sanitari e sociali. La legge 180 e poi la 833 hanno creato una cornice, uno scenario nel quale molti cambiamenti, alcuni neanche previsti nel 1978 sono stati realizzati, quindi anche molti cambiamenti sono fattibili in costanza di legislazione quale quella che abbiamo. Tra l'altro io partecipo ai lavori del tavolo interregionale per la salute mentale presso la conferenza Stato-Regioni e c'è una posizione ufficiale di tutte le regioni che ritiene non necessario riformare la legge 833 agli articoli che ha citato, ma sufficiente emanare delle direttive che sono già state predisposte e che verranno divulgate nei prossimi mesi per una più corretta applicazione di quella normativa stessa. Sappiamo che in Parlamento ci sono alcuni progetti di legge che invece mirano a riformare e abrogare quella legge, però su questo l'insieme delle regioni italiane si è già espresso negativamente. Grazie a tutti.